Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. Una notizia scioccante è giunta ai media di recente, suscitando un profondo sgomento nella popolazione e nella comunità coinvolta. Andiamo a scoprire i dettagli di questo tragico evento che ha trasformato una giornata di relax in un bruttissimo caso di cronaca che riguarda una piccola bambina di 11 anni. Di nome Olivia, figlia maggiore dell'ex portiere di lunga data della MLS, il massimo campionato di calcio per gli Stati Uniti e il Canada. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, la bambina si trovava a bordo di una barca, in compagnia di altre 12 persone, quando un'onda generata da un motoscafo che passava nelle vicinanze ha sbalzato alcuni passeggeri in acqua. Il tragico sinistro è avvenuto a largo di una località sulla costa della Carolina del Sud. A causa dell'onda improvvisa, la barca su cui viaggiava la bambina e gli altri passeggeri si è ribaltata, facendo finire in acqua 11 occupanti, tra cui la piccola Olivia. Mentre le altre 10 persone sono riuscite a salvarsi, Olivia è stata colpita dall'elica del motoscafo, subendo danni irreparabili che hanno portato alla sua prematura morte. L'evento ha lasciato attoniti gli altri presenti sulla barca, che hanno assistito impotenti alla tragica scena. In queste ore e nei prossimi giorni verranno probabilmente forniti ulteriori dettagli riguardo a questa tragica situazione che ha colpito la famiglia Knighton. Tuttavia, al momento, la comunità e gli affetti della piccola Olivia sono sconvolti dalla perdita di una giovane vita, e la notizia ha scosso l'intera comunità locale. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.